Electronic Dreams, automodello pronto all'uso MST-CMX Crowell in scala 1 a 10 4WD 2,4 GHz con elettronica impermeabile. Automodello pronto all'uso MST-CMX JP1 in scala 1 a 10 4WD radiocomando 2,4 GHz. Rabitronic, supporto modello girevole in alluminio nodizzato rosso. EDS, gomma magica per la pulizia degli automodelli. Hobbywing, modulo condensatore non polarizzato da 940, modulo condensatore non polarizzato da 1700. NOC, sacchetto da 250 g di graniglia grigia per massicciata in scala H0 e TP. Sacchetto da 250 g di graniglia grigia per massicciata in scala N e Z. Mr. Hobby, confezione da 50 bastoncini in cotone ideali per la pulizia di aerografo, modelli e decal. Pratico raschetto largo 3 mm. Matita di precisione della linea Gundam Maker con punta di 3 mm. E queste sono le relative mine di ricambio. Preithi al contone ideali per le raffodello.